Brutte notizie per chi ha un terreno agricolo. Il governo Renzi che cosa si è inventato? Si è inventato che mentre all'inizio dell'anno aveva detto che erano tutti esenti, oggi ha deciso di far pagare l'IMU retroattivamente, quindi per il 2014, a tutti coloro che hanno un terreno agricolo. In più le agevolazioni che erano previste per la montagna, per i territori di montagna, tutti sappiamo che fare agricoltura in montagna è difficile, è costoso ed è un servizio alla collettività, quindi dovrebbe essere lo Stato che finanzia l'agricoltore che lavora la montagna e non l'agricoltore che finanzia lo Stato come gli viene chiesto di fare adesso perché al di sopra dei 281 metri tutti sono esenti, ma al di sotto dovranno pagare per l'utilizzo, per la proprietà di un terreno agricolo.